Ciao a tutti e bentornati come ogni settimana qui su Dufer e Boldrin, come sempre il filosofo e l'economista Rick Dufer e Michele Boldrin. Ciao Michele. Ciao ciao. Oggi andiamo a discorso, avvisati e sbagliamo anche rapidamente. Di cosa vuoi parlare? Velocemente, così non ci capiscono, così diciamo delle cose inaccettabili e comunque non potranno criticarci perché non capiscono. Oggi parliamo di un argomento che la scorsa volta ha suscitato un qual certo interesse, ovvero... Ah sì, quello che ha detto che io non ho mai lavorato, sono mai stato in fabbrica. Un giorno farò la dichiarazione pubblica. Ragazzi, è molto difficile che chiunque nato dopo il 1970 abbia lavorato tanto quanto me. Quindi toglietevela sta storiella, fine delle discussioni. Beh, ovviamente in Italia si usa sempre il lavoro a mo' di denuncia per delegittimare tutti e chi ci sta sulle balle è uno che non lavora, voglio dire. Lo dici a me, io che faccio video su YouTube da qualche anno, ormai il commento più presente per la nostra professione è ma non vuoi trovarti un lavoro serio, cioè nel senso è come se... Quello che stai facendo sono cazzate. Esatto, esatto, esatto. Lo saprebbero far tutti. Bon, quindi vuoi parlare di povertà. Eh, la scorsa volta è venuto fuori quel discorso lì che ha suscitato interesse sulla povertà, sul concetto di povertà. E tu a un certo punto hai detto una frase che ha scatenato gli animi, una frase del tipo che, sì, però ricordi che il discorso sulla povertà è una cazzata. Ok, hai detto così, diciamo così, in soldoni. Così volevo chiederti un po' di andare ad approfondire questo concetto e soprattutto di cercare di distinguere, magari in questo video, e cerchiamo di arrivarci insieme, la povertà reale contro la povertà percepita. E quale ruolo giocano queste cose e come si manifestano nella società, secondo te? Ma bene, questo è proprio... abbiamo scelto il giorno giusto in cui vogliamo essere brevi, perché sull'argomento si può andare avanti all'infinito. Allora, io posso darti il punto di vista, così, neanche dell'economista, di chi ci pensa razionalmente, no? Allora, la povertà ovviamente, anzitutto, c'è un livello assoluto e un livello relativo, d'accordo? I livelli assoluti di povertà, cioè quelli in cui sei proprio all'indigenza, ci sono varie organizzazioni che hanno cercato di classificarlo, chi è interessato se le vada a cercare è facilissimo in rete, a partita dalla Banca Mondiale, trovare definizioni. In Italia praticamente non ci sono, quindi non esiste. Il problema di cui si discute in Italia, quindi se vogliamo tenerci all'Italia, lasciamo stare la questione della povertà assoluta, non esiste. È un problema di grandissime altre aree del mondo, che coinvolge centinaia di milioni, miliardi di persone. È una delle cose che ho sottolineato, appunto, cercando di far capire che il problema di Greta e Seguaci è proprio quello che non riescono a capire. Ma io direi di lasciarlo fuori. Allora, il problema della povertà relativa, e cioè fondamentalmente delle diseguaglianze dell'esistenza in tutti i paesi, Italia compresa, e Italia anche, per prima direi, nell'ambito perlomeno europeo, di zone di esclusione sociale. E cioè di persone che rispetto al livello medio di reddito, di istruzione, di inserimento sociale dell'italiano, più o meno della loro età, sono fuori per svariate regioni. Quindi il problema da porsi è quello lì, sei d'accordo? Assolutamente. Vabbè, anche perché il primo problema, cioè voglio dire, noi possiamo stare qua a discuterne finché vogliamo, però anche i libri che abbiamo citato negli ultimi video, ovvero Rosling, ovvero Pinker, eccetera, eccetera, lo dimostrano a mani basse che il discorso di povertà assoluta è un discorso, cioè che non porta a un dibattito, non porta a una polemica. Oggi c'è il minor numero di poveri assoluti, se noi partiamo da un livello proprio di lettura, di una cifra minima per non essere finiti indigenti, il numero più basso della storia anche proporzionalmente, cioè non solo per numeri di individui nel mondo, ma anche proporzionalmente rispetto alla... Quindi quello è un discorso che proprio non si pone, basta leggersi due libri... C'è un discorso che voglio dire, se è interessante, se si vuole sviluppare, è cercare di capire lo sviluppo economico, perché certi paesi si sono sviluppati prima di altri, perché ancora alcuni sono in stati di estrema retratezza, eccetera, eccetera. Però, diciamo così, ci porta su un terreno, tra l'altro, anche tecnico, storico, complicato. Poi per quanto riguarda i paesi quindi come l'Italia, se tu guardi, ti rendi conto che questi fenomeni di estrema povertà, eccetera, sono fondamentalmente di tre tipi. Uno che, francamente, quantitativamente conta poco, che è la estrema povertà dovuta a shock temporanei. Percentuale piccola di popolazione, il fallimento, il disastro, la morte di questo, la morte di quello, si trovano in condizioni quell'improvviso. Ma qui siamo in situazioni che vanno bene da raccontare, anedotticamente le risolvi con un minimo di stato sociale, devo dire, abbastanza semplice e banale, no? Dalle case, dalle abitazioni comunali a redditi di sussistenza, eccetera. Quindi, o di sussidi di disoccupazione, eccetera. Ovviamente c'è tutto il problema dell'Italia, che è un paese in cui il sussidio di disoccupazione vero, articolato, non esiste, ma anche lì andiamo su un argomento fuori. E poi cos'è che hai? Hai o forme di indigenza causate da particolari debolezze mentali, chiamiamole chiaramente, cioè da persone con caratteristiche psicofisiche che le rendono incapaci di badare se stesse, di riuscire a essere produttivi, di lavorare e a volte anche di studiare a un minimo livello e quindi hanno bisogno di nuovo di assistenza sociale per sempre. E di nuovo mi sembra che la risposta a questo sia. La grande massa cos'è? E rientra nella famosa proverbio cinese, no? Questo molto saggio, se vuoi sfamare un uomo per un giorno regalali del pesce, se vuoi sfamarlo per tutta la vita insegnagli a pescare. E siccome il nostro dibattito era partito da rete di cittadinanza e affini, sono finito qua apposta. E mi fermo. Sicuramente c'è una cosa di cui discutevo anche con un po' di miei utenti qualche giorno fa, c'è proprio uno scollamento, anzi no, c'è un fraintendimento fra quella che è la percezione di un disagio e poi l'esistenza del disagio. E discutevo di una cosa importante, cioè che un po' è correlata anche a quello di cui discutevamo sabato scorso quando abbiamo parlato della soggettività, eccetera, eccetera. E prima o poi ci torniamo su quell'argomento perché ho visto che ha creato moltissimo interesse quel discorso lì, anche se poi si va un po' nel filosofese, però c'è l'opportunità di farlo. Va benissimo, se vuoi andiamo una volta nel filosofese serio. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. E no, dicevo, è legittimo che si guardi al mondo o anche a se stessi percependo di aver perso qualcosa, di sentire un disagio, di essere infelice. Cioè nel senso, alla fine, nessuno può dire come io devo effettivamente sentirmi. Quindi può essere che anche una persona con un lavoro decente, con una famiglia alle spalle, che non ha malattie particolari, però senta questo disagio. Io credo che oggigiorno ci siano tantissime persone che percepiscono questo disagio che è dovuto a tante cose. È dovuto, per esempio, mi viene in mente il fatto che si è frainteso il ruolo del successo. Cioè il fatto che tutti quanti oggi possano arrivare al successo non significa che ognuno sia garantito di avere successo in quello che fa. Oppure degli esempi, dei modelli che invadono il nostro mondo e quindi pensiamo sempre di poter arrivare a fare la stessa cosa che fa quello, eccetera, eccetera. E quindi che ci sia una percezione di disagio molto soggettiva, molto intima, molto personale, credo sia abbastanza indubitabile. Però, dall'altra parte, si utilizza questa percezione di disagio che è, per sua natura, non misurabile e la si usa nel tentativo di sostituire invece i benefici che stiamo vivendo nel nostro tempo che invece quelli sono misurabili. E allora lì entra in gioco quel discorso fra povertà percepita e povertà assoluta con cui hai aperto. Cioè il fatto che oggi noi diciamo che è la miglior epoca in cui sia possibile vivere fino a questo momento storico in questa parte di mondo non significa dire che poi le persone magari non si vivono male anche a quest'epoca perché poi le persone vivranno... Bastava leggere Baudelaire, voglio dire, Baudelaire ti dice... C'è quella poesia bellissima... Adesso verrai insultato di nuovo, eh. No, perché? No, no, vabbè, ma c'è quella bellissima poesia... Se tu ci fronti alla povertà degli indigenti citi Baudelaire, le freddu, perché sei un depravato, sei un depravato, chiaramente un depravato. Che fottura di cascina. Probabilmente bevi anche della psinta, fai delle robe strane. Vai in giro per la città di notte, eh, accompagnando... Faccio delle robe strane con la psinta. No, dicevo, c'è quella bellissima poesia di Baudelaire che purtroppo io non sono mai stato un bravo memorizzatore di poesie e quindi non ne conosco molte memorie in cui però, per parafrasare, dice che nell'ospedale quello che sta vicino alla finestra invidia quello che sta vicino al termosifone e quello che sta vicino alla stufa invidia quello che sta vicino alla finestra. Quindi nessuno nega il fatto che ci sia un disagio, però c'è un problema enorme. Io lo pongo proprio come problema, ma ovviamente a tema anche agli spettatori, quelli che insomma molto spesso si scaldano su queste tematiche. Come faccio io ad agire, ad agire, nei confronti di un disagio che è percepito soggettivamente, intimo e non quantificabile? Cioè nel senso, com'è che si può migliorare? Perché il problema è tutto lì quando si vuole trasformare la soggettività in politica. Cioè si dice, visto che tante persone stanno male, allora devo. E allora li sei legato soltanto alle simpatie della gente. Quello che ha studiato filosofia dirà che l'unico modo per migliorare la condizione di povertà della gente è far studiare filosofia. Quello che invece ha fatto il liceo scientifico dirà che... Stiamo registrando prima. Ho deciso di dibattere la questione venerdì sera in un live. Questo video uscirà dopo. Possono recuperarlo in differita, dai. Vanno sul tuo canale. Quindi andate sul canale Michele e guardate il dibattito avvenuto ieri sera. E si torna sulla questione scuola. Perché davvero non se ne può più. Ormai non se ne può più. E tra l'altro è una fonte di povertà. Questa è la parte percepita dell'insoddisfazione sociale eccetera. Forse dovremmo dedicarci un capitolo e devo dire se ti interessa il panel, uno dei panel di Sesto San Giovanni di Villa Torretta di Berioltre è proprio su quello. Cioè Gerardo Favaretto che è questo amico mio psichiatra di notevole valore eccetera e con altri due il dibattito vorremmo proprio strutturarlo attorno a questo. E cioè su una situazione che in Italia è particolarmente forte in cui osservi forme chiamiamole così di depressione di povertà sociale diffusa in senso psicologico. E cioè delle determinanti anche sociali tanto perché il senso di sfiga ok? L'atteggiamento è perfetto. Il senso di sfiga è perfetto. Esatto. E qui questo devia un po' da quello che io avevo in mente tu volessi parlare ma stiamoci. è una percezione che io ho chiarissima in Italia ho chiarissima e l'ho chiarissima fra i giovani fra i quali vedo fondamentalmente tre tipi di reazione quelli veramente marginalizzati che abbandonano la scuola che finiscono malamente la scuola dell'obbligo nel sud e che vivono in una strana condizione di semiteppismo dico semiteppismo perché non è che siano teppisti però li vedi insomma abbandonati in aree metropolitane o anche non paesetti paesotti con lavori che ovviamente gli schifano poca capacità professionale e poco desiderio di e poi nel mondo universitario vedo una grande massa di ragazzi che si sentono sfigati cioè la mia esperienza in questi anni in particolare che ha Foscari in altri posti di interazione con ventenni ha noto lo noto cioè non voglio dilungarmi troppo ma è un problema serio cioè li vedo sfigati sfiduciati con scarsa ottimismo con con non fiducia in quello che stanno facendo e nelle loro vite e poi c'è un gruppo invece irritante di quelli che o ben per estrazione sociale o ben perché forse l'hanno capito o ben perché sono più svegli gli sta andando relativamente bene hanno una relazione col mondo però che è di anche questo mi sembra parte della patologia nazionale che è di scherno ecco io non c'entra niente con la povertà però mi hai portato a pensare a questi tre gruppi dove alberga una forma di insoddisfazione mentale fra i ragazzi i ragazzi per ragazzi intendo i ventenni fino ai trent'anni circa poi ci sono dei mutamenti si vive in Italia fra i fortunati diciamo così con un atteggiamento di scherno lo trovo estremamente diffuso l'ironia su tutto un certo atteggiamento violento su tutto che è l'altra faccia dello sfigato cioè lo sfigato si rinchiude in se stesso e tende anche a pensare negativamente del mondo l'altro si sente padrone del mondo ma il suo atteggiamento nei confronti del mondo è che niente vale che io scherzo su tutto faccio ironia su tutto dico cazzate su tutto utilizzo lo scherno come strumento di vita di analisi del mondo non so se c'entra con la povertà probabilmente non c'entra mi sembra una forma però di povertà culturale è una povertà relazionale quella lì secondo me cioè nel senso è il fatto che tu devi per forza utilizzare l'ironia io questa cosa che hai detto la capisco benissimo perché la riscontro molto molto spesso soprattutto sai quella è la cosa divertente la cosa divertente è che più serio è l'argomento di cui si parla più si utilizza l'ironia è lo scherno perché in realtà è una forma di è una forma di autodifesa una forma di autodifesa quindi sicuramente è correlato è una sorta di povertà relazionale l'unica arma che ho per difendermi dalla relazione con te è prenderti per il culo fondamentalmente questo o prendere per il culo l'argomento di cui discutiamo sì 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 indubbiamente questo l'ho notato mi ha molto infastidito lo trovo povero infantile e a me a mio avviso invece è proprio una forma di povertà relazionale intellettuale anche morale devo dire che la sua diffusione fra la gioventù italiana specialmente quella fortunata educata laureata o in via di laurearsi eccetera eccetera forse anche un po' benestante è l'altra faccia del invece sfigatismo senso di esclusione sociale eccetera eccetera che ritrovi fra quelli a cui è andata meno bene diciamo così che sono probabilmente la maggioranza tornando alla questione però della povertà ecco in senso più stretto queste cose ti fanno capire che il problema ovviamente non è per parlare sempre di politica non può essere il sussidio ma cioè proprio non può essere il problema è un sistema scolastico un sistema di mercato del lavoro degli incentivi sociali della tassazione che ti dia prospettive che 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 valorizzi la tua intelligenza le tue capacità il sussidio è una follia cioè quella roba della serie c'ho due soldi per andare in discoteca finalmente perché quello è il meccanismo capisci una delle maniere in cui ti entra quando hai vent'anni o diciotto o ventitré o ventisette il senso di esclusione di sfiga è che la scarpa Vons non so se vanno ancora di moda tu non te la puoi comprare la scarpa? non Vons la roba è il genere ah Vons sì sì Vons Vons Vince e io in gioventù le ho portate quelle scarpe e mi ricordo che erano a mio avviso bruttine e costosette ma non importa mi ricordo che erano di mano sì ma l'ho detto per dire cioè il più il pulmì il più o meno il Montclair probabilmente è irraggiungibile per molti anche se non è vero poi ne vedo tanti in giro con i Montclair sì mamma mia in discoteca ci puoi andare meno frequentemente allora il sussidio ti permette di fare questi consumi stando a casa con i genitori il lavoretto eccetera ed è è come prendersi un po' di metadone sì 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 assolutamente è proprio l'eroina per il tossicodipendente cioè nel senso nient'altro che poi è divertente non so se hai visto chi verrà a dirmi che è una bufala in realtà lo bannerò dal canale perché è un mio amico che mi ha mandato la foto dal suo unieuro in cui di solito va a rifornirsi c'è un cartello fuori da alcune unieuro che dicono avvisiamo la clientela che non si può usare la card da reddito di cittadinanza per comprare materiale elettronico che è fenomenale se ci pensi questa cosa sai in questo vabbè poi qui veramente andiamo fuori dall'argomento però dico solo una cosa che potrebbe essere uno spunto per le prossime volte noi abbiamo dimenticato che lo stato sociale si basa sulla reciprocità e non sulla sussidiarietà cioè lo stato sociale esiste perché oggi tu sei in braghe di tela perché hai avuto il tuo colpo di sfiga e domani tocca a me domani tocca a me e invece cos'è che succede succede che di solito con la sussidiarietà lo sfigato esistenziale è sempre sostenuto l'imprenditore che perché ha sbagliato qualcosa perché ha subito il colpo di sfiga si trova il fallimento invece è anche schernito dallo stato sociale quindi di solito se lo becca pure nel culo in tutti i modi possibili e quindi non c'è nessuna reciprocità questo è un tema su cui sicuramente potremmo tornare perché è molto interessante però dall'altro lato ecco io un po' per concludere il ragionamento che facevo prima mi trovo di fronte a persone che chiedono intervento della politica per migliorare quella che è la povertà percepita ma tu non puoi cioè la politica non esiste mica per quello eventualmente esiste per migliorare i momenti in cui la povertà è reale come dicevi tu pochi momenti rari momenti in cui la povertà è reale lì ho dei criteri misurabili e sui criteri misurabili io posso eventualmente intervenire ma sul criterio di uno che la famiglia ce l'ha che il lavoro ce l'ha che sta male perché sta male qual è il criterio su cui io posso dire ok adesso ti vediamo incontro cioè non c'è nessuna misurabilità non esiste povertà è una povertà completamente percepita esiste lasciami dire per fare un pari più in un certo senso più sociologizzante di te sì occorre capire che questo stato questa sensazione di esclusione sociale in parte dipende dalla politica ma dipende dalla politica in un senso strutturale cioè alla politica va chiesto di cambiare e quindi devi chiedere tu anzitutto di cambiare la politica perché hai bisogno di una leadership politica che disegni un paese se ne cambia le istituzioni per davvero radicalmente con pazienza in modo da crearti spazi per vivere o devono crearti una scuola che ti piaccia che ti motivi che ti dia un futuro c'è poco da fare a tre quarti dei ragazzini italiani e non sono tutti stupidi perché io sono uno come ben sai dei più feroci non ho nessun problema a riconoscere che il 50% delle persone hanno un IQ inferiore a 104 in Italia e quindi ce n'è un buon 40% che se duri e comprendoni e quindi più di tanto da quelli lì non posso pretendere ma a questi anche a questi soprattutto a questi occorre insegnargli dargli negli anni che vanno dai 6 ai 18 una prospettiva una percezione del loro ruolo nella società che li faccia sentire utili ci sono delle cose che puoi fare anche se lei chiudi 88 e a rovescio quelli che ce l'hanno alto devono entrare in situazioni in cui la competizione è bella è divertente c'è l'elemento di randomness che può andarti male per caso e poi ci riprovi e in cui quindi il sentimento di esclusione sparisce allora certo lì per quello ci vuole la politica ci vuole la grande politica quello che io non capisco e che capisco ma non apprezzo e che trovo dannoso che qui ci ascolta dovrebbe cercare di farsi l'esame in coscienza è che l'atteggiamento ormai dominante nel paese invece è un atteggiamento di pietismo generalizzato e di richiesta di soldini in tasca di qualcuno che ti risolva c'è una mancanza di assunzione di responsabilità dietro a tutta questa letteratura filosofia pentastellata che è orrenda c'è un paese che si rinchiude e genererà ancora più povertà perché appunto ci si stanno rifiutando di imparare a pescare cosa c'è di più di più povero del chiedere l'intervento del messia che mi tirerà fuori dalle peste cioè nel senso è sempre quello il punto si gira sempre intorno lì alla fine dei conti sì beh io il consiglio che do io li metto sotto in descrizione perché ormai è qualche settimana che ne parlo sempre li metto Matt Ridley l'ottimista razionale Pinker e Hans Rosling e ci metto anche e ci metto anche aspetta dov'è che l'ho messo ah sì eccolo qua ci metto anche questo bel libro di Johan Norberg che è Progresso ed è 10 motivi per guardare il futuro con fiducia questi sono libri che inserirò sotto in descrizione perché sono dei bei libri che possono perlomeno farci cambiare un po' di percezione su quella che definiamo povertà senza per questo dimenticare che quando uno ecco concludo con questo la solidarietà non è mica nata con lo stato sociale cioè la solidarietà è connaturata all'essere umano l'essere umano si aiuta nel momento di difficoltà fin dalla notte dei tempi non è che adesso perché c'è il reddito di cittadinanza perché c'è il sussidia allora nasce la solidarietà l'uomo è solidale nei confronti dei suoi simili da sempre e soprattutto mi verrebbe da dire la solidarietà dà il suo meglio quando è volontaria ma qui si apre tutto un altro discorso che forse non è il caso di aprire adesso perché altrimenti facciamo facciamo veramente un video di ore e ore quindi non so mi sembra che tu abbia detto assolutamente bene eh sì quando la solidarietà diventa coercitiva poi diventa sempre un problema molto molto forte sì questa è un'altra questione sì in Italia c'è un'interpretazione un utilizzo molto sbagliato del termine solidarietà perché perché implica una forma di carità indotta da coercizione mentre dovrebbe esserci in una società in una società che funzionasse che fosse ma voglio dire anche solo razionalmente costruita c'è appunto quello che abbiamo detto prima ci sono degli apparati dello Stato di Stato sociale per i momenti di sfiga per la malasorte e a volte la malasorte ti dura tutta la vita perché nasci con caratteristiche fisiche che ti impediscono ma sono rarità è inutile stare a discutere di quelle come se fosse cioè quello purtroppo in Italia la pessima amministrazione pubblica non le ha neanche costruite decentemente ma è un problema tecnico come dire invece la sensazione diffusa di povertà è giustamente come dici tu si tratta di riuscire io credo il problema in Italia proprio di rovesciare il punto di vista c'è un enorme lavoro culturale cioè la gente bisogna riuscire perché fra le nuove generazioni fra le persone che hanno meno di 40 anni sia come uno scattino clic sai gestalt prima vedevi il coniglio poi vedi cos'è l'alternativa come non mi ricordo più l'altro è papera è papera devi cominciare a vederla a papera occorre riuscire a capire che ci sono problemi strutturali da risolvere con un po' di ottimismo li risolvi certo devi cambiare classe politica e devi smettere di chiedere a sussidio smettere di chiedere a sussidio prendere un atteggiamento ottimista su questa cosa che hai su questa cosa della gestale che hai appena citato adesso ti dico una parola che forse non conosci che è una parola bellissima che è un neologismo abbastanza contemporaneo ed è il vuja l'hai mai sentito il vuja il contrario al deja vu è l'anagramma di deja vu il deja vu è qualcosa che tu hai visto e si ripete nello stesso modo il vuja invece è vedere la stessa cosa però in un contesto completamente differente vuja serve un po' di vuja in Italia non conoscevole se si l'Italia no no è vero guarda l'Italia è un drammatico se riuscissimo a fare qualcosa anche con queste iniziative che abbiamo preso eccetera e quelle che faranno spero che tu ci sarai perché credo che su questo siamo arrivati a capirci ecco occorre fare un vuja del culturale occorre passare questo oggi l'Italia è dominata dal pessimismo dal lamento dal pietismo e dall'invidia sociale e internazionale occorre girarla ci vuole l'ottimismo l'affermazione di sé la responsabilità e invece che l'invidia il desiderio di competere di far meglio sono molto molto d'accordo e allora vedrai che le questioni che quella povertà che pure c'è si riuscirà a superarla non c'è mai niente altrimenti la alimentiamo e chiunque conosca l'interdizione sa capisce perfettamente quanto drammatico lì sia questo elemento culturale questo atteggiamento e questo autoalimentarsi della povertà e dell'esclusione sono pienamente d'accordo quindi quindi la conclusione di questa chiacchierata è evviva le papere evviva i vujade a basso i conigli esattamente bravissimo vaffanculo i conigli grazie Michele grazie a tutti per averci ascoltato diffondete fate vostro il vujade e portateli in giro il mondo vujade a tutti assolutamente sì assolutamente sì ciao a tutti buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa bravo e fai il vujade ciao 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 alla prossima ciao a tutti ciao a tutti